Dal lunedì prossimo entrano nella fase 2 anche le strutture ospedaliere di Marche Nord dopo la stremante ed incessante lotta contro il virus degli ultimi due mesi. Gli ospedali, i servizi, gli spazi interni e gli operatori sanitari dopo aver avuto la capacità straordinaria di modellarsi intorno all'emergenza e che hanno gestito dal 26 febbraio ben 750 ricoveri con capacità camaleontiche grazie alla professionalità delle sue eccellenze ora si avviano verso la normalizzazione seppur con la guardia ben alzata potendo però registrare il confortante dato di soli 7 pazienti in terapia intensiva e di avere per il covid 83 ricoveri. Il virus non è sconfitto però l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo combattuto e i numeri cominciano a dire che tutto quello che è stato fatto giustamente dalla gente con dei sacrifici che noi capiamo quando siano stati importanti però hanno dato i risultati. Il distanziamento sociale ha dato i suoi risultati e quindi l'azienda si è organizzata per partire con questa fase in cui verranno riprese in carico anche tutte le patologie non legate a questo maledetto virus. Già dei passi sono stati fatti, è stata riaperta la geriatria nella giornata di ieri e soprattutto sono stati creati dei percorsi di sicurezza che cominceranno molto presto anche con un termoscano esterno per cui le persone verranno tutte valutate in base alla temperatura corporea che deve essere inferiore a 37,5 e ripeto 37,5 come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità e tutti quelli che avranno temperatura maggiore verranno in qualche modo valutati. Quindi ci saranno dei percorsi ben divisi, un percorso pulito in cui sono tutti i pazienti no Covid, dal paziente invece sporco, tra virgolette i pazienti positivi al Covid ma abbiamo soprattutto pensato una zona intermedia, una zona grigia estremamente importante per tenere in isolamento in stanze singole le persone che ancora non hanno fatto il tampone o che nonostante un tampone negativo ci danno molte perplessità sul fatto che sia negativo. Forse la gente si è fidata poco in questo periodo di entrare in ospedale. La gente è rimasta chiaramente impaurita, io la capisco, però adesso il messaggio deve essere che ci sono dei percorsi di sicurezza che mettono al riparo da possibili sorprese negative in termini di contagio ma che danno la possibilità a curare delle altre patologie perché è vero purtroppo si è morto di Covid ma non scordiamoci che si continua a morire per malattie cardiovascolari, per l'ictus, per l'infarto, per patologie tumorali e così via. Voi i sanitari e tutti gli operatori manterrete le stesse disposizioni che avete avuto fino adesso? Assolutamente, noi dobbiamo lavorare come se tutti i pazienti fossero positivi e questa è una garanzia per noi per carità ma soprattutto per non essere noi poi fonte di contagio.